Condizioni inaccettabili per i lavoratori impiegati negli appalti di pulizia degli uffici postali della provincia di Chieti e di Pescara. Questa la denuncia di Filcams CGL Chieti, la Filcams CGL Pescara e la Will Trasporti Abruzzo. Una situazione preoccupante perché da molto tempo per decisione unilaterale di poste italiane l'appalto in oggetto è caratterizzato da una frammentazione che rende particolarmente complessa la tutela collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono i servizi di pulizia. Nel corso degli anni si sono verificate problematiche di vario genere come diminuzione degli orari di lavoro nei vari cambi di appalto o ritardi da parte di qualche ditta nella corrisponzione dei salari. Interpellata più volte, fanno sapere le sigle sindacali, la direzione di poste italiane non ha mai dato un riscontro. Questo comporterà inoltre pesanti ripercussioni sui salari già molto esigui. La maggior parte dei contratti di lavoro, infatti, prevede intorno alle 10 ore settimanali, sia delle lavoratrici che dei lavoratori in appalto e sulla qualità del servizio. A ciò va aggiunto che in questi giorni alcune delle aziende appaltatrici, continuano i sindacati, stanno pressando dipendenti allo scopo di ottenere il loro consenso alla riduzione degli orari individuali di lavoro. Questo comportamento si configura come illegittimo. Le rappresentanze sindacali chiameranno a risponderne le ditte interessate e la stessa committente, che sta attuando delle scelte inaccettabili, che rendono l'appalto per il servizio di pulizia degli uffici postali insostenibile dal punto di vista occupazionale, salariale e sociale.